buongiorno puoi sveglio buon caffè già pronto si rimatina pronto io già stai occupando te lo dico ma tu sembri più fresco delle rose cioè io già sono sfatto fresco delle rose sono un frescone frescone io già sogno sfatto rimatina ma dove stai andando a spendere i tuoi soldi a spendere i miei soldi ma i soldi capotto oggi te li puoi scordare te lo dico allora innanzitutto tu esci senza chiavi di casa così devi bussare e poi già me li dai nel piano è rotto non esattamente o forse scendo io giù così continuo il mio shopping vedete che bella vita fa scetto io già io già sfatto di mattina già ho dato ho dato sei in pensione come dicono tutti i soldi no sono conte è diverso eh non sei in pensione no i conti in pensione non ci vanno che carino però che carino va bene va nenti vai a spendere i miei soldi a meno comprami qualcosa con i miei soldi a meno non hai bisogno di nulla eh che ne so mi compri che ne so un paio d'occhiali una maglietta una maglietta una maglietta o furriolo o cappuccio vabbè va io mi ne stanno ciao ciao me ne sto andando a faticare io ciao bravo portare soldi eh